a registrare mamma mia una borsana di munizioni e dai io non mi devono più i colpi bobby mi dai qualche colpo non so di che parli federiteli dai un'altra cassa di munizioni lascia bobby lascia come il cane lascia facciamo i seri ragazzi per cortesia che li abbiamo qua davanti non mi interessa voglio i colpi di bobby anche se non mi servono più in realtà oh altre munizioni meno male oh eccoli problema tuo mi ha visto credo allora è vero bobby ti giuro ma l'ho craccato mi ho fatto 120 dai ma com'è possibile c'è un altro c'è altri altri ragazzi 100 errada a destra solo a destra uno mi ha provato a cecchinare 60 mi sto curando mi ha fatto un male della madossa dove è scelto uno mi ha cecchinato mancata merda cane dai ma sono delle pippe regà si lo sospetto ma ti ricordi che anch'io lo sono no oh già è vero oh santo cielo siamo spacciati grazie Gabriele prego ti ha dato delle munizioni sto parando il culo perché era salito qua 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 va bene ho ucciso uno ho atterrato uno lì dietro dietro di te c'è uno atterrato non so ma siamo vivo tu li ritroviamo da me tutti e due per dirti che è quello che ti stava dietro bravo 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 eccolo qua 31 36 ucciso bravo hanno restato hanno restato uccisi tutte e due ma sto qua a resto non c'è nessuno ah chi hanno restato fino a alto io a terra qui se volete io prendo l'attaraggio chi è morto io ok ti ritiro su subito ma no ci vengono sempre quando ho preso la scheda quindi se vogliamo ci sono dei tiranate qua capì si si vengo a prendere vai 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 lasciate qualche cosa per gabriele si 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 pure munizioni e materiali si si la cosa tutto qua sta roba c'è tutto quello che ti pare ti è fatta tanto io qua ti lascio tac tac no qui c'è un sacco di roba tac tac c'è un sacco di roba qua lo spara dove sei morto qua dietro qua dietro qua dietro qua via qua vedete lo faccio vedere io mi serve lo spara bene ci sono già passato io 4 eh si qua è morto qua è morto qua è morto qui qui si ce lo spara bene ancora e da me guarda te ho colpo vieni qua e dove stai grazie pronti 4 contro 3 ho 10 tiranti mi potreste da colpi i cecchini si vieni vieni qua qui ci sono 2 B90 vieni fedeli 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 qua ci sono due lutte che facciamo prendete i tiranti ex non posso prenderli scudini ce li ho io vieni qua c'erano anche lì a terra eccoli laggiù ah no ah no dentro la casa dentro questa casa qui no stanno anche lì giù vabbè uno sta là ah quindi è un 2 contro contro 1 contro 4 probabile io voglio appendere il lutto c'è un tizio sul tetto della casa che sta cichinando l'ho mancato di pochissimo ah come al solito l'ho mancato lancia razzi viola bravo uno scudone ti serve non dispongo vieni sta là no qua 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 lo sei lo sei fanno doppio lanciarazzi raga raga siamo 4 contro 1 contro 1 uno sta qua e uno sta qua e uno sta qua fate una cortesia che non vedo un cazzo se no grazie stanno uno a destra e uno a sinistra pensavo ci fosse uno qua nel cespuglio raga ho visto una cosa rossa che si muoveva io sparo al giaccato 4 contro 2 raga e 4 contro 1 appunto meglio partiamo andiamo avanti oh uno mi ha provato a cecchina ah raga guardate che sta ah stanno ammazzate la di loro eh si si dai calamo 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 ecco ecco vado a fare uno 31 31 quello scudo quello più dietro mi sta prendendo a me forse è morto ma raga ucciso ucciso in testa 105 da casa mia no grava le volevo far cazzare eh lo so ma mi aveva appena cecchinato ho dovuto rispondere bravi 5 minuti registrato video breve ma intenso due fight bravi bravi tutti